Quale miglior modo di ricominciare le nostre discussioni parlando di competenze e se volete anche di nuove competenze? Abbiamo deciso di introdurre nei lavori del congresso temi che fino ad oggi non erano mai stati trattati nei nostri meeting perché ci siamo posti questa domanda, cosa significa oggi per un provveditore, per chiunque si approcci al mondo degli acquisti pubblici essere competente? Per dieci anni abbiamo creduto o ci hanno fatto credere che bastasse la competenza, chiamiamola così, giuridica, procedurale, siamo diventati dei potenti conoscitori di codice dei contratti, siamo diventati dei cigatori esperti, ormai un cig non si nega a nessuno, però abbiamo abbandonato se volete una serie di caratteristiche professionali che magari erano un po' un nostro vanto e che ci mettevano al pari di colleghi tecnici, anche sanitari, farmacisti, quasi un po' pretendendo e lasciandoci delegare a queste persone pezzi del nostro lavoro. Oggi poi, cogliendo lo spunto da una linea guida ANAC che impone ai RUP, ma io voglio sperare non solo ai RUP, ma a chiunque gestisca un ufficio acquisti di un'azienda sanitaria piuttosto che di una centrale acquisti, di diventare project manager, abbiamo pensato ma basta questo? O esistono altre forme di competenze, altre tecniche di cui un buyer deve impossessarsi? E allora abbiamo messo in fila le principali competenze di un soggetto che si approccia a un sistema di decisioni molto complesso, che si approccia a un mercato che spesso non conosce, che si approccia ad un'attività che è fondamentalmente rischiosa sotto più punti di vista, ieri abbiamo sentito parlare di corruzione, anticorruzione, ma non solo questo, e che inevitabilmente deve gestire risorse e competenze a sua volta. Queste sono le tematiche che stamattina affronteremo e ai relatori abbiamo anche chiesto di evidenziare quali vantaggi un buyer potrebbe ottenere dall'assumere, dal diventare un po' project manager, un po' risk manager, un po' auditor, un po' esperto in marketing d'acquisto e un po' gestore di risorse umane. Io lascio la parola al primo relatore che è Vito Introna, che è professore all'Università di Tor Vergata e è stato il mio docente al corso di project management. Buongiorno a tutti, ringrazio prima di tutto la FARE per questo invito e Marcello in particolare perché questa per me oggi è veramente una grande opportunità, io sono 20 anni quasi ormai che mi occupo di project management, da più di 10 anni attraverso l'Istituto Italiano i project management stiamo cercando di favorire lo sviluppo di questa disciplina nel campo della pubblica amministrazione. Da 4-5 anni in particolare mi rivolgo attraverso percorsi di formazione anche al vostro contesto, quindi a quello dell'approvvigionamento nel settore pubblico, quindi essere qui a potervi parlare di project management oggi per me è veramente una grande soddisfazione. Ecco, quello che mi sono chiesto è come l'avreste vista voi invece questa cosa, ma project management, ma proprio a me stai parlando? Sì, sì, sto parlando proprio a voi, sto parlando proprio a voi, da qualche tempo è molto facile convincervi di questo perché c'è il codice degli appalti che dice che il RUP è un project manager, era qualcosa che noi andavamo dibattendo da anni, abbiamo convegni di 10-12 anni fa sul tema, ma il RUP è un project manager. Ecco, il codice degli appalti in questo senso l'ha sancito e le linee guida l'hanno ribadito, per cui sulle linee guida dell'ANAC troviamo scritto che è fondamentale la formazione in materia di project management perché bisogna sviluppare le competenze necessarie per pianificare e controllare i progetti, con particolare attenzione a tempi, rischi, al raggiungimento degli obiettivi, rispetto della qualità. Quindi questa è una sfida ulteriore, ieri ho sentito parlare dei vari problemi tecnici che avete, l'eterno dibattito tra gara a ribasso, offerta economicamente più vantaggiosa, aspetti legati alla burocrazia per la trasparenza, l'anticorruzione, ecco, ci sono anche aspetti gestionali che sono però strettamente connessi agli altri perché determinano come voi potrete poi utilizzare per esempio il tempo. Bene, le stazioni appaltanti sono impegnate a fare, devono impegnarsi a fare attità formativa ai propri RUP riguardo al project management e attenzione, l'obbligo della qualifica del RUP come project manager che era presente in una prima versione delle linee guida è stato rinviato appunto al momento dell'entrata in vigore della qualifica per le stazioni appaltanti, quindi appunto rinviato ma diventa un obiettivo probabilmente di medio termine. Ecco, quindi le motivazioni ci sono e attenzione, il project management non si fa da soli, quindi Marcello prima diceva spero che non solo il RUP, il RUP è la figura centrale appunto, vedremo il project manager ma tutta l'organizzazione interna e esterna intorno a lui deve capire che cos'è il project management perché questo è un modo di lavorare, ok? Bene, però io insegno all'università quindi so bene qual è il diverso entusiasmo con cui gli studenti vengono il primo giorno del corso a lezione, se il corso è obbligatorio oppure se l'hanno scelto e quindi non mi basta venire qui a dirvi è obbligatorio, lo dovete fare, sono qui per cercare di farvi capire perché farlo e anche quindi perché le linee guida ANAC hanno pensato a qualcosa del genere. Il motivo in realtà è molto molto semplice perché una gara è un progetto, allora noi per distinguere se quello che abbiamo davanti è un progetto, per capire quanto è complesso e quindi quanto bisogno di project management c'è, generalmente andiamo a analizzare la presenza di alcuni elementi che chiamiamo caratterizzanti, proviamo a farlo insieme per una gara d'appalto. Presenza di obiettivi e risultati specifici da conseguire, direi che non c'è assolutamente alcun dubbio. Unicità questo è fondamentale, diverso dalle operations, unicità o dei risultati cambia l'oggetto di gara, ma attenzione unicità del contesto, mi insegnate che se una gara può essere anche molto simile in termini di oggetto a una gara passata ma se nel frattempo è cambiato il contesto, è cambiato qualche regolamento, è cambiato il contesto delle ditte o le richieste delle aziende può cambiare di fatto la realizzazione della gara. Limiti temporali, voi ne avete alcuni stabiliti proprio dal codice degli appalti, quindi assolutamente sì, vincoli, ancora una volta nel codice ci sono vincoli di varia natura, risorse differenziate da gestire, per completare la gara avete bisogno di coinvolgere oltretutto non solo risorse interne alle vostre organizzazioni ma spesso risorse esterne alle vostre organizzazioni, questo rende il progetto ancora più complesso. Interdipendenza di tempo, costo e qualità, per fare le cose meglio mi serve più tempo, il tempo non ce l'ho, cerco di ridurlo, poi rischio di aumentare i costi e questo è un problema da gestire. Attività collegate tra loro, non posso farle in parallelo come credo, c'è necessità di rispettare una certa sequenza. E infine numerosità degli attori e voi gli attori ne avete veramente tanti e anche di piuttosto complessi da gestire. Quindi signori, non solo una gara è a tutti gli effetti un progetto ma è anche un progetto generalmente piuttosto complesso da gestire. E vi do un'altra notizia, effettivamente RUP è un project manager perché il project manager è colui che è responsabile dell'operativo del raggiungimento degli obiettivi del progetto, nel vostro caso la gara. E generalmente opera sotto la direzione di un comitato, di uno sponsor, quindi un responsabile politico del conseguimento degli obiettivi e lo fa coinvolgendo un team, quindi un gruppo di persone che deve contribuire al raggiungimento del risultato finale. Quindi la gara è un progetto, il RUP è un project manager, questo è il motivo per cui siamo qua. E voi direte ma io però i progetti o meglio le gare non le ho mai chiamate magari così, non ho mai parlato del project management ma di gare ne ho fatte tante. Vero, giusto, corretto, assolutamente. Questo capita in tantissimi settori perché il project management è naturale, noi viviamo di progetti, i primi progetti li affrontiamo a quattro anni, quindi quando arriviamo sul lavoro per noi affrontare un progetto non richiede competenze specifiche. Poi abbiamo i colleghi, impariamo quello che vediamo fare agli altri, lo facciamo nostro, poi con una serie di lezioni che apprendiamo nel tempo troviamo un nostro modo di gestire il progetto di gara. E questo va bene ed è sufficiente, ma fino ad un certo livello di complessità dei progetti. Quando il progetto diventa più complesso si comincia prima a diventare inefficienti. Che significa? Lo portiamo a casa lo stesso risultato, ma con molta più fatica. Il professor Piga direbbe è uno spreco. E peggio ancora, alle volte cosa accade? Accade che proprio per questo non riusciamo neanche a portare a casa gli obiettivi, dobbiamo sacrificare qualcosa. Molte volte sacrifichiamo la sicurezza delle procedure, ci prendiamo dei rischi che non vorremmo prendere, oppure siamo costretti ad accettare dei risultati che non sono i migliori che noi ci augureremo. Quindi il project management è proprio la disciplina che da anni, è una disciplina che abbiamo cominciato a formalizzare, hanno cominciato a formalizzare 70 anni fa per gestire i progetti. Quindi è chiaro che può essere un utile riferimento per tutti voi. Il project management non è nient'altro che l'applicazione di una serie di conoscenze e di competenze agli obiettivi di progetto, una serie di strumenti, di tecniche che io posso applicare per ottenere gli obiettivi del progetto. Ci permette di avere un approccio step by step, quindi c'è una serie di passi da seguire dal momento in cui si parte fino all'arrivo che ci consente di non dimenticarci nulla di quello che dobbiamo realizzare. I vantaggi sono numerosi, in particolare il project management è molto attento ad alcuni passaggi che sono fondamentali. Definire subito obiettivi, risultati da produrre, definire responsabilità, ma trasferendo responsabilità. Questo non è banale, non si ragiona per attività, si ragiona per obiettivi da portare. Ognuno deve contribuire con un proprio obiettivo al raggiungimento del progetto, coordinati dal project manager. Aiuta a sviluppare un piano operativo, quindi a partire con il progetto, avendo un'idea chiara di quali attività devono essere fatte, da chi, quando e con quali risultati devono essere prodotti. Questo permette di coordinare gli sforzi di tutta l'organizzazione e anche degli esterni verso il risultato finale della gara. A questo punto, se abbiamo un piano operativo, possiamo fare lo stato d'avanzamento di un progetto, capire a una certa data che se siamo al punto in cui pensavamo di essere in fase di pianificazione. E questo ci permette di essere tempestivi nel riuscire a individuare degli interventi di correzione di un progetto, perché è evidente che il progetto non potrà mai andare esattamente come è pianificato. Ci aiuta anche a gestire i rischi e a prenderci le riserve necessarie per la gestione del progetto, collocandole nei momenti del progetto in cui sono più efficaci. E infine ci permette di gestire la comunicazione, che è essenziale in un progetto, perché abbiamo tanti attori intorno a noi che vogliono essere informati e chiedono di essere informati con diversi livelli di dettaglio e sono soddisfatti in funzione di diversi tipi di nostro comportamento. Bene, spero di aver attirato a questo punto la vostra attenzione e spero che quindi la domanda successiva sia, va bene, ma come funziona questa cosa che sembra risolvere almeno una parte dei nostri problemi di tutti i giorni. Bene, il project management è come detto una disciplina consolidata, quindi si basa su una serie di standard, la stessa linea guida richiama standard e norme di settore, perché effettivamente ce ne sono molte, ce ne sono diverse che sono ormai standard de facto, quindi sono stati iscritti da istituti autorevoli, nazionali, internazionali come il project management institute, nazionali come l'istituto di project management e sono delle linee guida operative per la gestione dei progetti, però ultimamente, gli ultimi anni sono concretizzate anche delle norme, quindi proprio dagli enti che emanano gli standard, abbiamo una norma internazionale che è una linea guida alla gestione dei progetti e abbiamo una norma nazionale che stabilisce quali sono i requisiti di conoscenza, abilità e competenza che deve avere un esperto in gestione di progetti. Facendo riferimento a questa norma volevo darvi un'idea di quali sono le competenze che deve puntare a sviluppare chi gestisce un progetto e sono competenze di tre tipi diversi, ci sono competenze relative al contesto di lavorare per progetti, perché il lavoro per progetti è un modo di gestire il proprio lavoro, ci sono competenze tecniche specifiche, vedremo, come gestire i tempi, come gestire i costi, come gestire le risorse e competenze comportamentali, questo è un aspetto fondamentale, il project management richiede hard skills e soft skills, quindi ci vogliono le tecniche ma abbiamo a che fare con le persone, quindi ci vogliono molti soft skills. Queste competenze sono descritte nella norma in maniera dettagliatissima, per ogni competenza si individuano le conoscenze che sono alla base, le abilità e le capacità specifiche che determinano poi attraverso l'esperienza la competenza. Ora, il mio obiettivo è solo darvi un quadro ovviamente di queste competenze, per darvi un'idea queste sono le competenze di contesto, significa che il project manager deve essere in grado di prendere il progetto, inquadrarlo all'interno dell'operato della propria organizzazione e saperlo avviare avendo già definito quali sarà la complessità del progetto e cosa richiede in termini di gestione del progetto per la sua applicazione, quali sono i punti chiave su cui dovrà fare più attenzione. Poi ci sono le competenze tecniche e qui c'è tanto valore aggiunto perché le competenze tecniche si poggiano su un modello per processi, vale per qualunque tipo di progetto, un progetto va avviato, quindi deve essere preso, tirato giù nel vostro caso dal piano annuale, assegnato a un responsabile di progetto che ne deve capire gli obiettivi, formalizzarli e poi partire, partire con la pianificazione, una pianificazione che deve coprire gli aspetti operativi del progetto, definire responsabilità, attività, risultati, tempi, rischi e poi provare a seguire quel piano dirigendo il progetto in base a quanto pianificato e controllando che effettivamente l'andamento sia quello. Periodicamente ovviamente saremo nella situazione di eventualmente dare delle correzioni al progetto per guidarlo verso la chiusura finale. Avete letto 39 processi, le norme identificano ognuno di questi processi, lo identificano in termini di input, di output, di strumenti a supporto e per ogni processo ci sono conoscenze, abilità e competenze, quindi è un quadro definito nel dettaglio e guardate i processi sono organizzati per aria, ci sono i processi per gestire l'ambito, cosa devo fare, cosa devo produrre, ci sono processi per gestire i tempi, come arrivo a determinare quando sarò in grado di consegnare la gara, questo è un tema che è sempre fortissimo nei RUP. In un contesto tra l'altro incerto, come gestisco i rischi? Bene, tutti questi processi sono già stati analizzati, si è stabilito come procedere e ci sono gli strumenti, poi è chiaro che il project manager anche di volta in volta deve capire cosa serve nel suo specifico progetto. Per farvi un esempio, quindi prendo soltanto una casellina, lo sviluppo del piano temporale, ci sono conoscenze, ci sono metodi per definire quali sono le attività, per metterle in fila, per dargli una durata, per prevedere delle riserve temporali e per proteggere quelle che sono le scadenze sensibili, di quelli che aspettano le aziende, che aspettano le ditte, che aspetta il vostro sponsor. E ci sono abilità e capacità, perché poi queste conoscenze bisogna saperle mettere in pratica, dobbiamo riuscire a individuare, non tutte le attività in un progetto determinano la durata finale del progetto, quindi bisogna capire dove agire, saper essere efficienti, dosare il proprio tempo in funzione dell'importanza che l'attività di gestione lo richiede. Tutto questo però non servirebbe a nulla senza le competenze comportamentali, perché noi dobbiamo lavorare con gli stakeholder interni, esterni, col team e questo ci richiede tutta una serie di soft skills, autodisciplina, capacità comunicative, rapporti con il gruppo di progetto, rapporti con gli sponsor e gli stakeholder, gestire il progetto con leadership, sono tutte cose che già fate, perché non si porta a casa un progetto, anche non chiamandolo così, se non si è già fatto qualcosa su questi temi, se non si è in grado di andare avanti, però una cosa è farlo, come spesso dicono i miei corsisti, io l'ho sempre fatto ma con approccio fai da te, invece qui ci sono approcci consolidati che quando il progetto diventa più complesso diventano molto utili. Faccio vedere un esempio, per gestire rapporti con sponsor e stakeholder ci sono conoscenze, gli sponsor si vengono classificati, si può imparare a riconoscerne i comportamenti, si possono apprendere tecniche di negoziazione, tecniche di gestione di conflitti, si può imparare ad essere autorevoli e a esercitare la leadership, sono competenze che si possono sviluppare. Bene, io uso dei bambini perché penso che questa sia una sfida da prendere con l'entusiasmo dei bambini, sto parlando a dei professionisti, 10, 20, 30 anni di esperienza, qualcuno conta già gli anni o i mesi che mancano alla pensione e invece qui vi stiamo chiedendo, vi stanno chiedendo sostanzialmente di ricominciare da capo e di guardare a una disciplina che magari fino adesso non avevate mai guardato e quindi la sfida va accolta. C'è altro da sapere? sì, ci sarebbe tanto altro da sapere, però una cosa in particolare vi volevo dire, questo processo di qualifica che è visto da molti come un ulteriore onere, invece attenzione questo è un processo che nel mondo privato per esempio è già molto sviluppato perché in realtà c'è vantaggio per tutti, prima di tutto per la persona perché questa è una qualifica personale che ci si porta dietro personalmente, è un obiettivo personale che si raggiunge e che vi porterete dietro, per la stazione appaltante perché è garanzia di qualità, io opero attraverso risorse che un terzo ha detto che sono in grado di fare questo mestiere, è importante per la committenza e per tutti gli altri stakeholder esterni che riconoscono la professionalità e quindi sono tranquilli sul raggiungimento degli obiettivi e si affidano in maniera più serena dei professionisti, per questo motivo nel settore privato le certificazioni sono ormai diffuse da anni, il processo di qualifica è un processo semplicemente di verifica del risultato di apprendimento di queste competenze che viene effettuato da parte di un'organizzazione che è definita competente, ecco uno degli aspetti su cui bisognerà lavorare e in qualche maniera le nuove linee guida lo dovranno chiarire è proprio chi sarà considerato competente, io vi dico cos'è accaduto fino ad ora, fino ad ora sono state tante certificazioni rilasciate da questi famosi enti autorevoli che l'hanno fatto sulla base appunto della loro credibilità, da un anno a questa parte essendoci la norma esistono anche organismi certificati quindi riconosciuti da Accredia per la certificazione del personale sulle competenze di gestione dei progetti e poi ovviamente sono affacciati anche altri enti, per esempio anche le regioni certificano, in questo campo non si sono ancora mosse però potrebbero eventualmente farlo, quindi questo sarà un tema che andrà chiarito, però nel frattempo per dirvi in Italia di certificazioni de facto ce ne sono più di 15.000, la metà sono basiche, l'altra metà sono avanzate e sono rilasciate come detto da diversi istituti, i primi tra tutti il Project Management Institute che è il massimo esponente di queste discipline a livello mondiale e a livello nazionale c'è anche l'Istituto Italiano di Project Management che ha cercato di calarlo, lo standard del Project Management Institute sono 700 pagine, l'Istituto Italiano è partito da qualcosa di 60 per dire andiamo per gradi, quindi è qualcosa di molto diffuso e il mio invito, il mio suggerimento è non aspettate, è un percorso, si può fare un po' alla volta, quindi per esempio queste certificazioni basiche rilasciate da istituti autorevoli possono essere dei passi, vengono riconosciute, gli organismi di certificazione oggi riconoscono i passi che sono stati già fatti, quindi uno potrebbe tranquillamente pensare di cominciare a certificare le conoscenze, poi a sviluppare delle abilità certificare quella e infine certificare la sua figura a tutto tondo come professionista. Volevo concludere con la vera sfida, gli standard abbiamo, gli strumenti ce ne sono quanti volete e descritti a diversi livelli di dettaglio, il problema qual è? La vera sfida è quella, è affrontare il processo di sviluppo di nuove competenze, tornare a guardare le cose con gli occhi dei bambini, i miei ragazzi universitari sono affascinatissimi da questi metodi di gestione del lavoro perché ancora non sono succubi di ciò che accade, non sono frustrati da ciò che accade nel mondo del lavoro, dobbiamo ritrovare un po' di queste energie, bisogna calarle nel contesto specifico perché sono generali, possono tranquillamente essere applicate nel vostro settore, bisogna trovare la maniera migliore, più efficace per applicarle e questo richiede del lavoro insieme, tra esperti di PM e esperti del settore e poi serve uno sforzo da parte delle organizzazioni perché il project management non può essere sviluppato dal singolo all'interno dell'azienda, quindi deve essere l'organizzazione che deve favorire lo sviluppo di questo. Lasciatemi concludere con un esempio, abbiamo concluso un corso proprio la settimana scorsa, questo è uno degli strumenti tipici del project management, è un cronoprogramma, molti di voi l'avranno già visto, ma questo è un cronoprogramma operativo sviluppato insieme al gruppo di discenti, su richiesta loro, lo vogliamo applicare e allora guardate, qui c'è la scomposizione di una gara in fasi, in singole attività e ha permesso di stimare la durata delle singole attività, di definire la sequenza ottimale tra le attività, di individuare, stimare delle riserve temporali per proteggere le scadenze che a questo punto possono essere previste e tranquillamente comunicate agli stakeholder esterni. Questo piano poi diventa il riferimento per il controllo del progetto, per il controllo dei rischi, per l'interfaccia col team di progetto. Quindi vi voglio lasciare con questo messaggio, fondamentalmente è lo stesso ieri del professor Pica, ma la presentazione l'avevo già preparata, quindi non ho copiato e ho deciso di lasciarlo. Il messaggio è che si può fare, si può fare, l'abbiamo già fatto in altri settori e sono sicuro che è possibile cominciare a farlo anche nel vostro e sono anche sicuro che qualcuno ha già cominciato e quindi deve trovare il coraggio in questo momento di andare avanti. Detto questo finisco il mio intervento e invito magari chi è interessato, ci sarà un forum di project management il 27 ottobre, quindi se qualcuno vuol venire a conoscere qualcosa di più di questa disciplina è tranquillamente invitato. Grazie. Grazie, grazie professor Introna. Quindi abbiamo già cominciato a vedere che cosa può significare strutturare un certo tipo di competenza che se vogliamo è trasversale, perché questa poi la puoi applicare anche alla tua vita privata fondamentalmente, però cominciare a dare con un certo tipo di abilità diversa, con strutturazione, risposte anche alle direzioni, ai professionisti e in fondo, lasciamelo dire, anche ai pazienti, perché in questo modo tu riesci a dare con una ragionevole certezza e non a spanna risposta alle domande, ma alla fine questo percorso che stai facendo questa gara mi garantisce che quel prodotto arriverà, sarà il migliore, arriverà in quei tempi, perché poi alla fine sempre questo deve essere l'obiettivo finale. Ecco, le risposte si possono dare in tanti modi, si possono dare a spanna o si possono dare con metodo, quello che ci viene richiesto è darle con metodo, questo è il punto. E se la gestione dei tempi e delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi in maniera strutturata è un aspetto del problema, l'altro aspetto è anche quello dei rischi che si vanno ad affrontare gestendo un certo tipo di attività. Oggi va molto di moda parlare, molto di moda, cioè ce n'è bisogno probabilmente, parlare di rischi di tipo corruttivo, ieri abbiamo sentito parlare di anticorruzione, se volete nel senso più classico del termine, molto più raramente se ne sente parlare come sistema di controllo e sistema di supporto alle decisioni per assumere le decisioni con il più basso livello di rischio. Perché se io approccio ad una gara, approccio ad un acquisto, senza non solo avendone valutato tempi, costi, risorsi da impiegare, ma anche il rischio a cui mi espone, il rischio di fallimento è elevatissimo. E abbiamo qui l'altra faccia dell'anticorruzione, quella di tipo gestionale, quella che si propone di dare delle risposte e strumenti a chi poi opera nei processi, quindi anche ai RUPA, anche ai buyer e quindi dare supporto. Abbiamo Massimo Brunetti che è il responsabile del servizio internal audit, nonché responsabile anticorruzione dell'auto di moda, che ci parlerà di questo. Grazie Marcello. Innanzitutto dichiarami i miei conflitti di interesse, faccio parte di Libera, l'associazione che si occupa di contrasto alle mafie. Il quesito a cui volevamo rispondere era se la gestione del rischio nell'area degli acquisti può essere uno strumento utile. In realtà già il professore Introna ha introdotto questi temi nel momento in cui accanto al project management si parla di rischio. In realtà, come anche Introna diceva, queste cose spesso noi le facciamo ma non le rendiamo esplicite. Quindi vedremo questa cosa. Questo è una scatola che contiene i fili telefonici vicino al mio ufficio. Io personalmente vi rappresento in questo modo, come un qualcosa di estremamente complesso. Fate un mestiere estremamente difficile, estremamente complesso. Questi sono gli attori del sistema della salute. Abbiamo provato a metterli insieme e sono davvero molti. Le attività di acquisto mettono insieme tutte queste persone che hanno interessi completamente diversi fra di loro. Chiaramente al centro abbiamo il paziente, nel senso interessante ed è una cosa che ci dimentichiamo sempre. Il 70% della salute è fatto al di fuori del sistema sanitario. Questo è un qualcosa che molto spesso noi ci dimentichiamo. C'è la parte alta del sistema sanitario, della politica, con ad esempio un tema che ha toccato proprio ieri Cantone, il tema della gestione delle lobby. Poi c'è la parte di chi opera nel sistema sanitario, la parte della ricerca dell'università, delle società scientifiche, la parte dell'industria sanitaria o meno, la parte della società civile, pensate alle associazioni di pazienti, media, l'intervento, criminalità organizzata, ne parleremo dopo e poi la magistratura. Tutte queste persone, tutte queste situazioni incidono sulla salute delle persone. Probabilmente alcuni di voi hanno risposto a questo questionario che abbiamo lanciato con Marcello e in cui abbiamo chiesto alcune cose. La prima era in quale aree del percorso acquisti ritieni che la tua realtà potrebbe fare meglio. E' emerso molto chiaramente la prima è l'identificazione dei bisogni e la seconda, come è poi la realtà che viviamo tutti i giorni, l'esecuzione dei contratti. Con il nuovo codice appalti le cose nel settore degli acquisti sono migliorate, l'85% risponde per nulla o poco. La domanda successiva era sull'accorpamento degli acquisti, anche qua l'80% dice che l'accorpamento ha migliorato nulla o per poco. A proposito di definire bene i fabbisogni, è uscito pochi giorni fa un bellissimo studio sul British Medical Journal in cui si dice che sostanzialmente il 50% dei farmaci oncologici sono inutili. Questo nel senso per dirci quanto definire i fabbisogni sia un qualcosa di importante e di fondamentale. E appunto parlavamo di rischio e il rischio lo definiamo come qualsiasi evento che possa influire negativamente sugli obiettivi delle nostre organizzazioni, come ci diceva Entrona, sulla salute dei cittadini e sulle risorse pubbliche. Quindi il rischio è sostanzialmente questo. Quali rischi corriamo? Le cose che voi conoscete e che viviamo tutti i giorni, quindi comprare servizi inutili, di bassa qualità oppure non sicuri. Ci ricordiamo le famose valvole brasiliane, su cui molte persone sono morte, molte persone stanno ancora facendo esami e interventi legati a quello, a prezzi eccessivi, non al passo con le innovazioni. Avere in casa la criminalità organizzata. Quanto tempo perdiamo con le certificazioni antimafia che sappiamo essere uno strumento a volte poco utile, perché sappiamo che esistono i prestanome, il tema dei subaffalti. Diciamo l'eccesso nelle proroghe, il non ascoltare la prima linea e tutti i problemi che abbiamo nella fase di esecuzione dei contratti e sostanzialmente quello che gli esperti definiscono il non ascolto della prima linea, quindi il non vedere i problemi di chi poi usa concretamente questi servizi. E poi i problemi organizzativi che tutti conosciamo, l'essere inefficienti nelle procedure, a volte per un eccesso di controlli anche inutili. Il lavorare con un livello di stress molto alto nei nostri servizi, nel senso è una cosa che tutti noi viviamo e il tema molto importante del turnover del personale. Rischi esterni, cartelli delle imprese, questo è un rischio estremamente importante. Rischi sociali, lo sfruttamento dei lavoratori da parte dei nostri fornitori, che poi magari ci danno delle prestazioni di bassa qualità, oppure la scomparsa delle piccole e medie imprese sul territorio, anche questo è un danno, è un rischio che comunque possiamo creare al tessuto sociale dei nostri territori. Rischi ambientali, lo smaltimento dei rifiuti, lo smaltimento proprio dei rifiuti, proprio in questi giorni è stata scoperta una organizzazione criminale che smaltiva, che faceva finta di bonificare dei rifiuti e poi dopo li mandava all'estero. E poi un tema personalmente a me molto caro, che può creare dei danni enormi, il tema della sicurezza informatica. Pensate a quali danni può arrecare ad un'azienda sanitaria un attacco, come spesso succede, ai nostri sistemi informativi. Ma come accadono i problemi? Sostanzialmente in due modi, ogni modo involontario, i cosiddetti errori, oppure l'insufficiente vigilanza, il tema della cyber security è un'insufficiente vigilanza rispetto ad attacchi a sterbe, oppure il modo volontario, e qui tutto il tema di cui parlavamo delle frodi e delle corruzioni. Una cosa interessante è che spesso noi i rischi non li condividiamo, non ne parliamo e li vediamo a silos. Quindi nelle nostre aziende c'è chi si occupa di rischio clinico, chi si occupa della sicurezza dei lavoratori, chi si occupa di rischi gestionali e poi chi si occupa di rischi informatici. Facciamo molta fatica a mettere insieme e a condividere questi rischi, che molto spesso hanno cause anche comuni. In tema di rischi possiamo seguire due strade, o subirli e quindi arrivare dopo che il rischio si è manifestato, quindi con le conseguenze, oppure anticiparli. C'è un bellissimo libro che vi invito a leggere, Governare l'Inatteso, che racconta l'esperienza delle grandi organizzazioni che gestiscono i grandi rischi, pensiamo a centrali nucleari, portaerei, e loro raccontano in modo molto chiaro come queste grandi organizzazioni lavorino per anticipare i problemi, lavorino sulle piccole cose, che poi è quello che ci raccontava prima introna. Io mi strutturo in un'organizzazione e seguo anche le piccole problematiche, in questo modo riesco ad anticipare i problemi e sicuramente a gestirli meglio. E quindi ogni rischio diventa un'opportunità di miglioramento. E questo è il segreto. Io mi fermo a guardare i rischi perché riesco poi a trasformarli in un miglioramento. Il fatto di avere meno personale, comunque mi deve spingere a migliorare i sistemi informativi. Quindi da un problema, da un rischio, io questo lo trasformo in un'opportunità. E questo è un po' il percorso di risk management che poi è il percorso proposto nell'anticorruzione. L'anticorruzione non è altro che un percorso di risk management legato al tema corruttivo, ma sostanzialmente parliamo sempre delle stesse cose. Fra l'altro è interessante vedere come quando si parla di corruzione, e ANAC lo definisce in questo modo, non si parla soltanto dei reati previsti dal codice penale, ma viene inclusa nella corruzione tutta la malamministrazione. Quindi andiamo al di là dei reati. Quindi il buon utilizzo delle risorse. Al centro chiaramente ci sono le attività di assistenziale e di supporto per il paziente. Diamo per scontati che le procedure ci siano, e qui si lega il tema della certificabilità dei bilanci che ci vede tutti in questo momento alle prese appunto con la certificazione di bilancio. Il primo punto da cui partire, che anche ANAC nel senso ha stressato molto dicendo che i piani anticorruzione fino a questo punto erano molto deludenti a questo punto di vista, è l'analisi del contesto. Come diceva in trona prima, se cambio il contesto lo stesso progetto, la stessa situazione può cambiare e quindi posso ottenere anche dei risultati diversi facendo le stesse cose. Quindi è importante fermarsi e condividere il contesto che abbiamo internamente ed esternamente. È chiaro che è diverso lavorare a Trento rispetto a lavorare in Calabria. Il secondo elemento, l'analisi e la valutazione dei rischi. L'elenco che abbiamo visto prima, no? E potremmo aggiungere molti altri. Quindi mi devo fermare, analizzare, capire quali sono i rischi e valutarli. Provare a dargli una valutazione. Questo perché? Perché una volta che io ho visto il problema, provo a capire come risolverlo. Il terzo elemento su cui anche nella mia esperienza stiamo lavorando con grande soddisfazione anche da parte dei colleghi che ci stanno seguendo in questa cosa, il tema dei controlli. Qui sul tema dei controlli c'è un salto culturale da fare. Controlli non fatti perché me lo dice la legge, ma controlli fatti perché io miglioro l'organizzazione. La gap analysis, sostanzialmente, andrà a vedere che cosa posso migliorare. Le misure di prevenzione, i piani di contenimento, red flag sono gli indicatori. È fondamentale riuscire a trovare degli indicatori che ci accendano delle spie, che ci possono indicare che lì c'è una situazione di rischio, che c'è qualcosa che non va. E l'ultimo, chiaramente, il monitoraggio e la rivalutazione. L'analisi del contesto, così, vi parlo di uno strumento molto semplice che abbiamo già usato nell'analisi Modena, ma che può essere fatto anche a livello di singolo servizio, è la classica analisi SWOT, in cui io, nel senso, vado a identificare i punti di forza, i punti di debolezza, rischi e opportunità. Dopo vedremo un esempio di opportunità. Un rischio esterno è chiaramente, non so, se è sul mio territorio, come anche in Emilia Romagna abbiamo, abbiamo l'Andrangheta e la Camorra, chiaramente quello è un rischio quando faccio dei subappalti. Dicevamo la valutazione dei rischi, questo si fa in modo classico, valutando l'impatto che le conseguenze di quel rischio hanno sull'organizzazione e sulla vita delle persone, e in termini di probabilità. Qui, chiaramente, se io ho dei sistemi di controllo efficaci, la probabilità che si verifichi quel rischio, che si verifichi che quella conseguenza scende. E posso avere molte risposte al rischio. Posso accettarlo, nel senso, quando ho un rischio molto basso e non fare nulla. Posso trasferirlo, ad esempio, quando mi assicuro contro un rischio, quando decido di far fare quelle attività esternamente. Posso gestirlo, questa è la situazione che capita maggiormente, oppure posso evitarlo. Decido di non fare quell'attività. Il classico esempio delle riscuotitrici automatiche, nel senso che decido di chiudere le casse e di far pagare le persone soltanto online, perché in quel momento decido che ho un rischio troppo alto da quel punto di vista. Un altro punto importante è fermarsi e ragionare sulle cause dei problemi. Quindi io individuo i rischi e devo cercare di capire da dove arrivano le cause. Io personalmente sono un po' talebano, però uno dei problemi di fondo dei rapporti con l'industria, secondo me, è il fatto che la formazione dei nostri medici dovrebbero pagare solamente le aziende ospedaliere e il servizio sanitario nazionale. Fra l'altro ci sono già delle industrie che stanno andando in quella direzione. Questo vuol dire andare a lavorare a monte, prima che i problemi si verifichino. Nel caso di corruzione i due principali problemi sono conflitti di interessi e assimetrie informative e poi chiaramente possiamo avere anche problemi, ad esempio, interni ai vari servizi. Il conflitto di interessi è un tema di grande attenzione e in realtà il suo monitoraggio può essere trasformato anche in un cambiamento culturale. Si dice spesso che il tema della corruzione lo si vince nei momenti in cui riusciamo a vincere la sfida culturale. è vero, è assolutamente vero, parlare di conflitto di interesse all'interno delle aziende sanitarie fa bene, dobbiamo farlo di più e chiaramente questa cosa va strutturata. Il conflitto di interesse non è solamente firmare un modulo e poi chi si è visto, si è visto, ma bisogna accompagnare gli operatori a ragionare su questi temi. Dal mio punto di vista è interessante l'esperienza del Careggi, che anche in Emilia Romagna stiamo attuando, dove di fatto tutte le informazioni sugli incarichi extraistituzionali sono state messe in un unico database e quindi è visibile in modo molto semplice la situazione degli incarichi esterni, nel senso di ogni operatore, e poi è stata creata una commissione, quindi non una sola persona che decide, ma una commissione che discute i casi più complessi. Questo effettivamente è interessante ed è un qualcosa anche di nuovo, perché spesso le informazioni sono, diciamo, le informazioni sull'incarico che sono messe in tanti posti diversi. Mi piace riportare, nel senso di questa esperienza, dell'industria che ci dà il senso del fatto che il mondo sta cambiando. In questo momento l'industria sta mettendo tutti gli incarichi, tutte le consulenze dei medici online disponibili, purtroppo in questo momento soltanto per chi dà il consenso, ma siamo ad un 70% dei medici che l'hanno dato, e quindi io trovo disponibili online tutte le informazioni sui potenziali conflitti di interessi del mio prescrittore. Questo era l'esempio di Takeda. Anche qua si può fare di più, sarebbe interessante averlo su un unico database disponibile, invece che su tanti siti, però diciamo la strada è interessante. Mi piace ricordare quello che GSK ha fatto, Glaxo, che ha deciso di non finanziare più la formazione degli operatori sanitari. Scelta importante, che però va, secondo me, nella direzione giusta, nel senso che la strada può essere quella. Un tema che i miei colleghi, noi abbiamo una chat in cui anche Marcello è presente, abbiamo una chat su WhatsApp con 120 responsabili di anticorruzione, in tutta Italia, e quindi lì si discute tantissimo nel senso di queste cose, è un esperimento veramente interessante di rapporti e di collaborazione. Spesso voi vi trovate in situazioni in cui io, ad esempio, riduco il rischio di far partecipare dei professionisti che hanno conflitti di interessi ad una gara, quindi non gli faccio scrivere il capitolato, non li metto in commissione, professionisti anche capaci, ma dall'altro aumento il rischio per il paziente, perché magari poi dopo mi trovo in gara persone che non hanno le competenze necessarie per valutare, per scrivere il capitolato nei migliori dei modi. Chiaramente qui ovviamente non abbiamo soluzioni, però sicuramente è un problema e questo va valutato. Io, personalmente, se dovessi ragionare come paziente, insomma, su quella gara, magari qualche rischio di conflitto di interesse, nel senso che lo correrebbe anche, pur di avere il prodotto migliore. E chiaramente qui c'è il tema di quale punto di vista adottiamo. Non dobbiamo mai dimenticarci che, secondo me, il punto di vista finale deve essere quello del paziente, ovviamente. Il terzo, nel senso parleremo di controlli, quindi i controlli sono tutte le attività finalizzate a verificare se stiamo lavorando al meglio. Quindi chiaramente non stiamo parlando solamente dei controlli fatti rispetto a quello che ci dice la legge, ma anche capire come i nostri servizi stanno lavorando. Quindi abbiamo i controlli preventivi, successivi, interessanti le esperienze degli audit all'interno dei vari servizi e quindi qui si introduce il tema appunto delle certificazioni. Qui altre domande. Quanto ti senti soddisfatto, sempre del questionario a cui avete risposto, quanto ti senti soddisfatto dei controlli, qui metà e metà, era la risposta. Se era presente un sistema di controlli interni dell'area acquisti, nella maggior parte dei casi, nel 60% no. E un sistema di controlli a livello aziendale, anche in questo caso arriviamo a un 60% di risposta negative. Vi riporto l'esperienza dell'azienda Usi Modena sui controlli, in cui abbiamo attivato un sistema aziendale di controlli interno, quindi che riguarda tutti i servizi e l'obiettivo è quello di favorire la comunicazione, da un lato far sì che all'interno dei servizi ci siano dei controlli efficaci, ma il vero obiettivo è quello di far sì che ci sia una maggiore comunicazione con le direzioni strategiche, che molto spesso il tema dei controlli non lo considerano minimamente, lo danno per scontato. E l'obiettivo è quello di far emergere i risultati dei controlli, ma soprattutto le criticità. Molto spesso i nostri servizi sono messi in condizioni da non riuscire a lavorare. Allora noi in questo dobbiamo riuscire a trovare un modo per esplicitarlo, per comunicarlo. Non soltanto quando, nel senso che arriva la magistratura su un appalto su cui c'è un problema, allora lì la direzione generale si sveglia e dice ma che cosa è successo. E quindi chi coinvolge il sistema dei controlli, tutti i vari servizi, è importante quando parliamo di controlli chiarirsi bene che i controlli sono fatti all'interno dei servizi. Quindi il primo o secondo livello fatto all'interno dei servizi, e poi c'è un terzo livello fatto invece del servizio interno all'odite che arriva anche a fare le verifiche a campione oppure sulla base delle diverse situazioni. In più non dimentichiamoci che comunque ne abbiamo sempre il famoso collegio sindacale. Quindi tra i principi chiave un qualcosa di fondamentale è che tutte le attività di controllo devono essere documentate. Quello che noi non documentiamo non esiste. Questa è una cosa che quando facciamo gli incontri esce sempre. Sì lo facciamo ma nel senso non lo documentiamo. E quindi purtroppo quello che non riesce a documentare non esiste. E mi concludo qui con quest'ultima slide. Con quale atteggiamento? L'atteggiamento è quello non di controllo, non di andare a cercare l'errore, ma di migliorare nel senso il nostro lavoro, e di migliorare appunto le attività che facciamo. E quindi un approccio collaborativo e di responsabilizzazione delle singole strutture. Avrei altre cose da dire però mi fermo qua e semmai poi in discussione... Grazie a Massimo e quindi abbiamo capito che l'anticorruzione può essere anche questo, cioè parlare di sistemi di controllo interno, cioè ti do che tipo di strumenti un'azienda può mettere a disposizione di un provveditore, di un buyer o di un RUP per metterlo al sicuro, quindi per lavorare in sicurezza e per assumere le decisioni con il minor livello di rischio possibile. Oggi pomeriggio nel workshop dedicato a questi argomenti vedremo uno di questi strumenti all'opera. Cioè ci siamo posti la domanda, esiste uno strumento codificato e già in uso che permetta a un provveditore di misurare a che livello di rischio lo espone una determinata gara, quindi un controllo preventivo sugli atti di gara che gli quantifichi il livello di rischio, non solo corruttivo, a cui si espone e quindi che gli consenta di decidere con metodo se uscire o no, se uscire o rivedere quella gara. Alla domanda c'è stata data una risposta e quindi vi faremo vedere un esempio di strumenti applicati alla realtà concreta. Poi invito la dottoressa Mazzocchi a prendere posto. Un altro tipo di competenza che ci viene chiesto è ma tu esci sul mercato, dove ti piazzi? Il fatto di cercare un prodotto o affidare un servizio e rivolgersi a un mercato sbagliato è anche questo un rischio, è anche questa fonte di sprechi. Sbagliamo tempi, allunghiamo il brodo e alla fine proroghe, il prodotto non arriva, rinnovi e poi c'è l'ispezione dell'ANA che poi c'è la Corte dei Conti eccetera eccetera. Quindi il problema della gestione dei tempi e della giusta collocazione della nostra domanda sul giusto pezzo di mercato ci pone il problema se anche il marketing d'acquisto e le tecniche di tipo lean possono essere utili a una professionista che si occupa di acquisti pubblici. Buongiorno a tutti, Concetta Mazzocchi, lavoro con Marcello in Estar nella regione toscana e mi occupo, come diceva, di strumenti per ottimizzare quelli che sono i processi all'interno di Estar. Volevo giusto fare una piccola premessa. Negli ultimi anni, io sono di formazione economica quantica, abituata con i numeri e negli ultimi anni le riforme circolari e quant'altro anche non andando tanto indietro dal 2002 ho un'abitudine di prendere il documento e di iniziare a fare una conta su qual è la parola più frequente nel testo e ho messo su, in questi documenti che ho analizzato un podio dove si giocano la medaglia d'oro di bronze e d'argento, tre parole. Quella di rischi, in questo caso il rischio anticorruzione ma non solo perché lavoriamo in organizzazioni sanitarie quindi i rischi sono tanti parliamo del rischio clinico poi il rischio anticorruzione e così ci sono una rossidità di rischi l'altra è quella di sprechi e questa è comune a tutti come parola e l'altra è efficienza e qui viene un po' la storia di Estar come nasce quindi volevo fare un breve percorso su come nasce Estar l'approccio Lean che è nient'altro che uno strumento una delle tecniche di cui accennava prima il professore e gli obiettivi che si è posto Estar in questo senso di organizzazione e quali sono gli strumenti come nasce Estar Estar è un po' anche la risposta alle due parole che vi dicevo ottimizzazione e sprechi perché nel 2002 l'amministrazione la regione toscana decide inizia a fare questo disegno di trasferire dalle aziende sanitarie le funzioni tecnico-amministrative nel 2002 si parte col trasferire una delle funzioni core da un punto di vista tecnico-amministrativo la funzione dell'approvvigionamento l'acquisizione e beni e servizi si parte nel 2002 all'epoca erano presenti 16 aziende sanitarie quindi ASL, ospedali e istituti e per poi arrivare nel 2005 con la formalizzazione la creazione di tre enti l'ente tecnico-amministrativo suddiviso per aree basse che cosa succede? nel 2005 ecco diciamo sulla carta in realtà le funzioni che erano state diciamo trasferite non riguardava soltanto l'acquisizione beni e servizi infatti nel panorama nazionale ESTAR viene vista soprattutto come centrale di committenza ma non lo è e il fatto che non lo sia aumenta la complessità di gestione di quest'ente le funzioni quali sono? ecco le funzioni che sono state trasferite riguardano la gestione dei magazzini e della logistica la gestione delle reti informative e tecnologie informatiche quindi tutto il parco delle attrezzature sanitarie delle attrezzature informatiche dei software gestionali che sono presenti nelle aziende e la gestione delle procedure concorsuali perché dico nel 2005? perché in realtà il trasferimento di tutte le funzioni si è realizzato nel 2010 bene nel 2010 ci sono questi tre enti siccome non siamo la regione toscana in questo senso è molto adrenalinica ci trasformiamo in un unico ente sempre per rispondere con una risposta a quei diciamo tre problemi ovvero con l'intento di ottimizzare e eliminare gli sprechi quindi a partire dal primo gennaio 2015 le funzioni che vi ho elencato le tecnologie amministrative e quindi che sono di supporto alle aziende sanitarie vengono gestite da Estar un unico ente che soddisfa tutte le altre aziende presenti sul territorio questo è lo scenario ad aumentare la complessità di gestione è intervenuta dal primo gennaio 2016 l'organizzazione delle aziende sanitarie che si sono trasformate da 12 aziende sanitarie in tre aziende sanitarie complessivamente quindi le tre aziende sanitarie e le tre aziende ospedaliere più il Maier e questo è lo scenario su cui noi ci troviamo a lavorare e quali sono i nostri clienti i nostri clienti sono per l'appunto queste aziende sanitarie che in questo momento sono prese dalla riorganizzazione dalla standardizzazione dei processi sono cambiati ovviamente anche gli interlocutori con cui Estar ecco per soddisfare i servizi e questo è un pochino il panorama di cui vi accennavo e la risposta di questa organizzazione era per evitare le duplicazioni per eliminare gli sprechi e per aumentare la qualità dei servizi in questo processo di riorganizzazione quando si è ovviamente progettato quale la regione quale opportunità ha intravisto cioè quali sono state le spinte a riorganizzarci in questa direzione sicuramente potenziare i vantaggi della contrattazione delle gare regionali e qui forse nel panorama nazionale ci sono state delle statistiche ci sono tuttora dei numeri che dopo il collega vi farà vedere in termini di vantaggi e di risparmi rafforzare anche il coordinamento e aumentare una specializzazione degli acquisti ottimizzare le politiche del farmaco in termini di appropriatezza e innovazione uniformare la gestione dei magazzini perché in questo senso noi non facciamo solo gare ma ci occupiamo anche di logistica per la parte dei farmaci e dispositivi medici definire per quanto riguarda l'ICT e anche le tecnologie sanitarie una programmazione e diciamo strutturata standardizzare le procedure e i risultati offrire in questo senso alle varie aziende un servizio omogeneo semplificare e razionalizzare le procedure amministrative e questo diciamo queste opportunità sono poi state racchiuse in quella che è la mission di Estar ottimizzare la spesa pubblica gestione centralizzata e standardizzare le funzioni e elevati standard di qualità però ci sono stati e ci sono anche dei rischi da gestire e quello che è stato affrontato il primo che è stato ovviamente anche gestito è quello che ci siamo ritrovati ad avere prezzi diversi per magari stessi beni non conformità nella procedura le attese attese in termini sì di durata eccessiva delle gare ma anche dei tempi di consegna perché noi abbiamo come vi dicevo anche la funzione di consegnare i farmaci alle aziende sanitarie elevato numero di sedi disperse il territorio come la regione toscana ha dei punti presidi sanitari dispersi per cui anche in termini di consegna dei beni è un grosso problema e anche in questo diciamo in meno di cinque anni avere due organizzazioni ha messo a dura prova anche le risorse umane presenti in Estar in cinque anni due interventi organizzativi impattanti nei modi di lavorare ha messo un pochino a dura prova e qui viene il lean il lean lean nasce dalle aziende automobilistiche del sistema toyota avrete sentito parlare delle settimane kaizen miglioramento continuo giapponesi dopo la seconda guerra mondiale negli anni cinquanta un'industria distrutta alcun gruppo decide di andare in america fa un viaggio vada a osservare le aziende automobilistiche americane siamo negli anni cinquanta quello che invece colpisce giapponesi non sono le aziende automobilistiche bensì i supermercati l'organizzazione dei supermercati questo poi vi farò vedere questa organizzazione perché si ha colpito perché avevano visto che non si lavorava per la domanda ovvero aveva colpito nelle aziende automobilistiche vedere questi piazzali con tante macchine lì ferme quando ritornano in Giappone ripensano a un altro tipo di azienda questo ripensamento di azienda in meno di cinquant'anni considerate che nel fine anni cinquanta in prima classifica c'era la General Motors nel 2006 7 in pole position c'è la Toyota questo modo di lavorare ha colpito un pochino anche il mondo della sanità fino ad arrivare a noi in Europa negli anni novanta per poi arrivare in Italia una prima esperienza importante è stata nell'asile di Firenze qual è il Lean il Lean sostanzialmente anche qui ne allaccia discorso che ha fatto prima il professore sulla progettazione è una metodologia gestionale che ha l'obiettivo di creare valore per il cliente individuando ed eliminando gli sprechi nell'ottica di miglioramento continuo si parla sempre ovviamente di mappare i processi ma in un'ottica diversa e questi sono i cinque principi cardini della filosofia del Lean definire quali nell'ambito di una mappatura dei processi qual è l'attività che viene definita valore per il cliente finale identificare in sequenza logica quali sono le attività creare e disegnarle visivamente questo flusso di attività spostarci quindi dalla logica push ad una logica pull e mettere in piedi quello che è il miglioramento continuo farò degli esempi quindi sostanzialmente questi sono i principi cardini e questa metodologia per noi è stata applicata in prima battuta soprattutto come tempi di risposta ai servizi che noi offriamo per le aziende ovvero tempi di consegna di un farmaco presso i presidi sanitari e diciamo da un po' di tempo questa metodologia si sta spingendo anche verso i fornitori quali sono poi le difficoltà insomma i nemici nell'applicare questo buonsenso fatto metodo in Giappone li definiscono muda muri e mura ovvero la variabilità la disomonogenità di cui si parlava prima li accennavo i muri lo squilibrio tra tempi di lavoro e carichi di lavoro e poi li muda cioè le attività che assorbono comunque risorse ma che non creano valore per il cliente finale e infatti noi insomma con questi diciamo organizzazioni in breve tempo due grossi interventi normativi che ci hanno portato a riorganizzarci in poco tempo muri e mura sicuramente hanno generato di muda che cosa ha fatto Esther Esther questa filosofia di organizzazione snella l'ha portata nel suo piano strategico ovvero si è fatta in prima battuta un'analisi di quelle che erano le criticità diciamo queste attività non a valore e le ha portate nel proprio piano strategico ovvero l'appropriatezza è diventata un obiettivo quale è il nostro obiettivo procedere a una corretta rilevazione del fabbisogno che è direi la base il punto di battenza la creazione di un efficace sistema di comunicazione esterna con le nostre aziende capirete bene che in un contesto in cui le aziende si stanno organizzando e noi ci stiamo assestando effettivamente la comunicazione diventa necessaria lo sviluppo di competenze e anche lavorare con strumenti diversi standardizzare le procedure lo sviluppare anche capacità di risposta ai vari cambiamenti è dovuto sviluppare processi di ricerca e sviluppo e anche sviluppare un modello di gestione dei rischi aziendali qual è stata diciamo la prima il primo ambito nell'ambito del flusso di lavoro del processo della supply chain sicuramente lavorare sulla programmazione e pianificazione questo ha un ritorno in termini di ricaduta operativa sia per i colleghi all'interno dell'acquisizione di chi fa gare sostanzialmente ma anche a chi si occupa di magazzino di dover fare consegna ai presidi sanitari e la programmazione sicuramente uno degli obiettivi è iniziato ad applicare una sorta di triage perché per le aziende sanitarie tutto è urgente non avendo anche diciamo sempre una programmazione ottimale uno degli aspetti che si è affrontato è questo di cercare di fare un triage nella programmazione altrimenti gli uffici è impossibile per quanto ci possano essere tutti gli strumenti di progettazione o filosofia Lean non si è in grado di poter rispondere in maniera tempestiva un altro ambito di attività che si è cercato e qui è uno come vedete c'è la mappa quando uno dei principi Lean vi dicevo è visualizzare il flusso di lavoro in che cosa si concretizza sostanzialmente qui viene riportato un esempio dove viene preso in esame vengono prese in esame delle gare sopra soia e vengono esaminate tutte le attività che come vi dicevo nell'ambito del mappatura dei processi la cosa in più che viene messa nell'approccio Lean è quella di andare a individuare queste attività definendo quelle che sono a valore per il cliente finale ovvero l'infermiere il medico che è il reparto o anche il paziente perché poi l'approccio Lean è stato in prima battuta portato nelle organizzazioni sanitarie nei processi sanitari e quindi immaginate uno che è al pronto soccorso che attende e lì è tutta un'attesa però ci sono delle attese che hanno diciamo un valore altre che invece pur avendo un valore non sono necessarie riportata questa tecnica nell'ambito delle funzioni tecnico-amministrative vedete qui rappresentato il processo i tempi e le attività che vanno dall'indizione di una gara all'aggiudicazione e qui si va si vede l'indizione che i tempi sono abbastanza immediati un giorno la ricezione delle offerte la nomina della commissione fino ad arrivare all'aggiudicazione definitiva e rappresentati con il triangolo rosso quelli che sono i tempi o comunque delle attività alla fine che sono necessarie ma non sempre a valore su cui si può intervenire in tempi ottenendo dei risultati dei miglioramenti in che modo si vede che lì tra la ricezione delle offerte e la nomina delle commissioni e poi anche tra la nomina delle commissioni e l'aggiudicazione provvisoria i tempi sono stati sono molto elevati che cosa si è fatto e qui gli operatori che lavorano all'interno degli uffici ovviamente non dipende ci sono dei fattori esterni la nomina spetta la comunicazione dei nominativi avviene dalle aziende e questo ha fatto vedere che prendendo delle gare delle procedure c'era un'eccessiva variabilità all'interno della singola procedura quindi situazioni ottimali situazioni non ottimali e questo vi fa vedere la variabilità all'interno delle procedure come dicevo ci sono fattori esterni perché nell'ambito delle attività di indizione ricezione offerte richiesta nominativa all'azienda aggiudicazione provvisoria richiesta copertura aggiudicazione definitiva vedete bene nella mappatura che i soggetti che intervengono non sono all'interno di un'azienda quindi difficilmente non abbiamo sempre gli strumenti per poter intervenire e ottimizzare ma qui non ci siamo fermati vedete uno degli strumenti che viene applicato il diagramma di Ishikawa che viene fornito da queste tecniche dalla filosofia linea è uno degli strumenti che si applica abbiamo visto che il nostro problema è la variabilità nei tempi di processo un lead time quindi un tempo di attraversamento del processo che arriva anche a 300 400 giorni ma quali sono le cause spesso dalle aziende è colpa di Esther punto e il diagramma di Ishikawa non ha l'ISKE è colpa di Esther in realtà se si fa un'analisi più approfondita si vede che uno dei problemi è quando vi dicevo i lavori della commissione durano molto non sempre ci sono strumenti per poter svolgere sedute a distanza che potrebbero fare abbattere di molto i tempi di lavoro di una commissione oppure i metodi le procedure sicuramente non sono standardizzate modi di lavorare diversi ricordiamoci che comunque siamo frutto di tre aziende diverse e un altro quella della mancata assenza di albi e la regolamentazione proprio strutturata sui lavori delle commissioni quali sono state si è fatto un confronto si è visto che ci sono ampi margini di miglioramento sui tempi e attraverso che cosa si è proposto un piano che è anche in attuazione quella di la creazione di un albo di professionalità questo per abbattere la parte che vi è dati prima del triangolo quando si fa la richiesta per le nomine della commissione un'altra azione in questo senso che sarà illustrata nel pomeriggio nei dettagli è quella di avere tempi di risposta più rapidi verso le aziende in che modo attraverso la creazione di un sistema di comunicazione verso le aziende di richiesta da parte delle aziende e le barriere che si trovano in questo come dico sempre a questo buonsenso fatto-metodo le risposte quali sono quando si cerca di mettere a metodo alcune attività che non siamo in Toyota siamo sempre in trincea occupati sempre a dare risposte per cui non si ha ed è vero spesso il tempo di ripensare a lavorare in un modo diverso e ci penseranno chi di dovere ci penserà direttore generale e questo è quello che poi sono il decalogo un pochino di quello che è il miglioramento continuo in un'azienda alcuni risultati si sono avuti e si stanno avendo sicuramente un miglioramento in termini di tempi di risposta una maggiore soddisfazione anche da parte degli utenti finali e un miglioramento anche in termini di efficienza e di costi più bassi io avrei concluso grazie grazie mille Tina questa è una una serie di tecniche che ci consentirebbero da una parte di essere coscienti del modo in cui andiamo avanti nel nostro lavoro e di poter dare risposte certe a chi ci accusa sempre di essere quelli che rallentano i processi riuscire a dire ad una direzione aziendale guarda io faccio tardi perché e riuscire a rispondere attraverso metodi scientificamente fondati deve essere anche un nostro obiettivo e poi secondo me questo tipo di tecniche cioè la possibilità di eliminare le attività non a valore saranno il banco di prova delle tante promesse che ci hanno fatto col nuovo codice degli appalti se è vero che questo codice rende più flessibile l'attività meno procedurali e meno normativa dovremmo riuscire ad applicare questi strumenti in maniera molto quasi a scala industriale io temo che non sarà possibile però ancora è troppo presto per partire sfiduciati però questi sono strumenti che misurano anche la verità d'accordo e l'attuabilità delle promesse che ci fanno chiudiamo con il discorso dei discorsi cioè alla fine il nostro è comunque un lavoro che ci porta a prevalentemente lavorare con persone che si chiamino collaboratori che si chiamino fornitori sono persone quindi alle principali competenze questo lo hanno detto tutti i relatori che si sono succeduti le principali competenze devono essere quelle di riuscire a mettere le persone giuste al posto giusto e di riuscire a lavorare con quelle che ci sono quindi chiudiamo con l'intervento di Luigi Tucci che è responsabile dell'area qualità e servizi alle aziende sanitarie di ESC grazie Marcello buongiorno mi scuso per due cose subito la mia voce che come vedete è un pochino provata è il nome dell'area che dopo due anni e più non ho ancora capito bene che significato abbia ma tant'è la struttura invece si chiama innovazione sviluppo organizzativo e cercherò di mettere insieme tutte le cose che sono state dette stamattina facendo vedere praticamente come qualcosa si può pensare di fare noi ci occupiamo come Estar come ha detto prima Tina di tre linee quattro linee di produzione quattro linee di produzione importanti io qui ho messo ovviamente quella che vi riguarda più da vicino che sono quella dell'acquisto e l'acquisizione di beni e servizi ci abbiamo poi tutta la logistica l'approvvigionamento e la distribuzione di tutti i farmaci per tutta la sanità toscana e poi ci abbiamo l'information technology che è il settore dal mio punto di vista cioè quello delle professionalità quindi delle persone e quello con più complessità la quarta linea sono i concorsi quindi l'acquisizione del personale e qui poi arriveremo anche alla fine di questo breve intervento abbiamo parlato di tecniche di gestione delle persone io volevo partire proprio da questo però volevo partire dai numeri cioè il capo del dipartimento acquisizione di beni e servizi che vediamo qui in splendida forma qui con noi Paolo Torrico che nel pomeriggio farà anche un intervento su come stanno riorganizzando il dipartimento gestisce questa mole di lavoro io vado veloce tanto la conoscete meglio di me sia a livello di atti sia a livello di soldi ma volevo arrivare quindi questi sono i dati che il nostro direttore generale presenta in tutte le sue uscite pubbliche perché sono dati davvero rilevanti le persone scusatemi che lavorano in ABS in regione toscana come diceva Tina noi abbiamo fatto e qui è cominciato il mio intervento il mio ingresso in Estar quando c'è stata la fusione di tre enti da tre è arrivato un ente cioè significa signori che tre strutture tre dipartimenti chiamiamoli con i loro nomi dipartimenti e poi strutture che facevano in Toscana lo stesso servizio la stessa funzione in tre ambiti territoriali diversi sono diventati uno tre professionisti che facevano quel tipo di lavoro e hanno dovuto due hanno dovuto lasciare quel posto perché ovviamente se ne è scelto uno la riorganizzazione che in Toscana è partita due anni e mezzo fa che ha riguardato prima Estar ma che ha riguardato tutta la sanità sta ormai prendendo piede un po' in tutta l'Italia se non si fa se non si ha una strategia per pilotare governare in maniera virtuosa quando io parlo di pilotare significa avere una modalità di gestione di questo tipo di iniziative che sono di una complessità ma non per la sanità non per la Toscana o per l'Italia ma tutte le organizzazioni mondiali basta fare un po' di benchmarking hanno questa tipologia di problematica tutte le multinazionali si stanno riorganizzando scegliendo ognuno la sua organizzazione perché non esiste un'organizzazione perfetta non esiste un'organizzazione sempre giusta e sempre uguale che porta i risultati ottimi ma l'organizzazione deve essere modellata secondo quello che è il bisogno e gli obiettivi della performance e questo è un altro punto importante che io come organizzazione e come mission mi sono posto le persone parlavamo delle persone le persone di ABS del nostro dipartimento sono queste io ho voluto scrivere il totale delle persone poi due aree ce ne sono di più ma due aree sono quelle un pochino più complesse qui parliamo di diversi professionisti di gente che fa questo lavoro da tantissimi anni l'età media del dipartimento è abbastanza elevata vi faccio l'esempio dell'ICT così lasciamo molte persone sono presenti il nostro ICT ha un'età media di 49 anni l'Information Technology è da un punto di vista di competenze è il settore che ha un'evoluzione continua più alta rispetto a tutte le aree ma non questo non soltanto in sanità il benchmarking che ci hanno fornito è di 23 anni per l'ICT 23 anni benchmarking mondiale di aziende che si occupano di sanità pubblica e privata e sarà un'età media di 49 anni capita bene che se non si lavora sulle competenze sulle persone è difficile poi raggiungere gli obiettivi di performance per tornare ad ABS questa è la complessità complessità che non è soltanto nell'età media non è soltanto nel numero e qui torniamo anche al project management ai progetti alla gestione delle attività alla gestione delle persone che si occupano di quei progetti ma è anche nel ruolo professionale che hanno nelle competenze perché come vedete le ho divisi anche per tipologia di contratto cioè far lavorare una persona che ha un'età media notevole e che ha un contratto C ce ne sono tantissimi da noi ci vuole gente che gestisce le persone con una competenza elevatissima tutto quello il resto che vi raccontano che si possono usare strumentazioni tecniche di 20-30 anni fa sono scusate se mi permetto favole che bisogna smettere di raccontare perché è complessissimo lo scenario che abbiamo davanti questo è uno scenario che c'è sempre ed è sempre in evoluzione è questo le aspettative sempre crescenti le innovazioni tecniche e scientifiche che comunque ci sono e a cui non possiamo non rispondere le organizzazioni che come dicevo prima ci cambiano in maniera continua e non sempre sono comprensibili ma non sono comprensibili neanche da chi le pensa io ho partecipato alla riorganizzazione del servizio sanitario toscano in quel periodo di lavorare di regione quindi capisco cosa c'è dietro e capisco la complessità e le innumerevoli difficoltà che ci sono e non sempre tutto è comprensibile figuriamoci se non è comprensibile per chi la pensa e la attua per chi la subisce è una cosa davvero complicata ma tant'è quindi bisogna fare in modo che noi abbiamo sempre una risposta a questo la complessità è sempre più complesso i costi ovviamente crescono e le risorse diminuiscono le motivazioni e le professionalità con un blocco del turnover che ormai va avanti anzi la notizia è proprio di oggi che hanno sbloccato un po' il turnover ma ci arriviamo anche a questo parleremo di un turnover programmato e gli investimenti che rispetto a qualche anno fa sono sempre in ambito di decrescita questo è il processo si parla tantissimo di processo si parla di tecniche del processo io volevo sottolineare con voi fare un ragionamento insieme a voi sul l'importanza di mappare un processo capire cosa facciamo all'interno delle singole strutture io quando parlo di gestione delle persone intendo una gestione del gruppo di lavoro il gruppo di lavoro sono il gruppo con il suo capo questo quando si parla di gestione delle risorse umane si intende la gestione del proprio gruppo di lavoro il processo è quello che ogni gruppo di lavoro riesce a fare con gli obiettivi che ha prefissati e con le persone che lavorano insieme a lui e che devono aiutarlo a raggiungere quegli obiettivi noi mappiamo il processo lo facciamo con tecniche diverse vedremo adesso vi farò vedere le competenze così di base l'evoluzione delle competenze per un buyer il provveditore l'ho chiamato io c'è chi gestisce uffici di questo genere la tecnica che ci ha presentato Tina ormai è la tecnica di base la tecnica principe quella lì però io una volta che ho pensiamo io ho mappato il processo del mio ufficio ho capito che ci sono degli sprechi ho capito che ci sono il gap analysis ci sono delle cose da migliorare adesso l'evoluzione di questa cosa e che vi pregherei di ragionarci è come faccio una volta che io ho un problema a casa io ho un problema ne prendo atto intervengo io mappo un processo so quale sono le problematiche di quel processo io gestisco quell'ufficio quel processo devo intervenire questa è la competenza quindi quando vi dicono mappiamo il processo arriva l'ingegnere gestionale benissimo attenzione però una volta che ho mappato un processo so quale sono le problematiche quale sono le evoluzioni da fare non le chiamerei nemmeno problematiche perché adesso ci arriviamo innovazione innovazione quando di innovazione tutti si allarano innovazione innovazione è fare un pezzettino in più di quello che io faccio sempre l'innovazione è una cosa continua tutti i giorni bisogna innovare non è una cosa prendo tu ci e lo scaravento da una parte e ci metto un'altra non è questa l'innovazione o non è soltanto questa l'innovazione è fare un piccolo passo per riuscire a eliminare quello attenzione a questa cosa non vi fate perché se no poi la teoria supera l'immaginazione ma non è nient'altro che fare qualcosa di concreto se io però so che c'è un problema nella mia struttura nel mio processo di lavoro devo intervenire e come intervengo qui ci sono le competenze di chi gestisce il gruppo la nuova competenza che c'è su questo media su Harvard si chiama start up cioè prendere quel pezzettino e portarlo a casa ma non è facile è molto difficile è molto difficile questo non è un problema della sanità non è un problema di questa organizzazione del lavoro ma è un problema di tutte le organizzazioni del lavoro considerate che la nostra organizzazione di lavoro quella sanità è quella più complessa per quale motivo e qui torniamo sempre a quello che noi facciamo di mestiere perché i professionisti che lavorano nel sistema sanitario sono tutti professionisti di livello altissimo qual è la differenza tra una fabbrica e un ospedale che là va è una piramide rovesciata da un punto di vista di gestione del personale è una cosa è gestire un pronto soccorso c'è capitato anche questo una cosa è gestire tutto il dipartimento di acquisizione e beni e servizi dove le competenze sono da sempre elevate è una cosa è gestire una fabbrica con degli operai che devono produrre il pezzettino componibile che attenzione che la nostra è un'organizzazione del lavoro complessissima la più complessa quindi la più difficile da gestire questa è l'innovazione l'innovazione è questo è un'analisi continua della propria organizza cioè non c'è bisogno che ce lo vengono a raccontare però bisogna fare qualcosa non bisogna dire io faccio il buyer lo faccio come dieci anni fa e non si può fare ma non perché lo dico io che sono l'ultimo dei cretini qui è perché non si può fare perché non riusciamo a raggiungere la performance che ci viene chiesta non è possibile quindi bisogna cambiare dobbiamo lavorare sulle persone io posso fare qualsiasi strategia posso ridisegnare qualsiasi processo ma se non metto le persone giuste nei luoli chiave era meglio che non facessi nulla quindi quando poi parliamo di tutto arriviamo a parlare di chi la innovazione la compie tutti i giorni le persone queste sono le competenze standard che ho preso velocemente da internet su un management medio cioè un provveditore un direttore di struttura complessa sono proprio se io 15 anni fa parlavamo di queste cose ci ho aggiunto la customer analysis perché noi in quanto ente di servizio noi non facciamo servizio ai cittadini quindi molte persone che lavorano da noi pensano che siccome non c'è il cittadino se non lavoriamo in un ospedale la maggior parte proviene da aziende sanitarie ospedaliere non c'è il cittadino quindi noi non abbiamo clienti cioè per molta gente le aziende sanitarie ospedaliere che sono i nostri clienti non sono clienti perché non sono cittadini i cittadini poi avranno i servizi ma tutto quello che si pensa e si programma viene fatto ormai in funzione dei clienti è tutta una customer analysis cioè ci sono aziende che disegnano i prodotti dopo la customer analysis questa è l'evoluzione 5.0 io non sto dicendo che noi bisogna fare così ma avere un occhio comunque al tuo cliente è ormai una cosa fondamentale adesso vi faccio vedere queste le chiamo Harvard di ottobre la rivista Harvard Business Review le competenze di fondo di fondo quindi sono proprio quelle basiche di un management io ho scritto provveditore ma ovviamente per me il provveditore è un grande manager è un manager che gestisce la quantità di dati che abbiamo visto in apertura la gestione operativa io ve li faccio vedere velocemente ma come si fa a non parlare di performance a non parlare di indicatori quando io faccio vedere un processo disegnato in quel modo io noi nella mia struttura organizzativa sviluppo organizzativo mettiamo degli indicatori di performance cioè una volta che lo disegni una volta che hai capito quale sono le gap analisi lì vai a mettere gli indicatori devi raggiungere quelle performance quindi devi cambiare per forza ma si deve discutere dei risultati ma si deve discutere anche se i risultati non si raggiungono non è più come una volta non è vabbè vabbè non ci sono riuscito non ci sono riuscito non va bene proprio non va bene per chi gestisce quel business non va assolutamente bene gli obiettivi e gli obiettivi io quando ho cominciato questo lavoro gli obiettivi erano già raggiunti cioè la prima volta mi ricorda due minuti ho finito avevo già raggiunto gli obiettivi ma come abbiamo appena iniziato gli obiettivi quelli non sono obiettivi la performance ormai è una cosa troppo seria attenzione che noi per contratto abbiamo gli obiettivi individuali annuali ma lo sapete che in un mondo in un'organizzazione così veloce ormai si chiama fast work gli obiettivi cambiano tutti i mesi ma quante volte la regione ti chiama è un obiettivo che tra i tre mesi prima è completamente cambiato perché è arrivato un decreto è arrivato uno sforamento e ci cambiano improvvisamente ormai è trimestrale il cambiamento dell'obiettivo non è formale ma è così sostanziale il riconoscere il talento è trattenerlo io vi voglio fare vedere solo prima di chiudere perché cosa significa il potenziale noi abbiamo fatto anche un'analisi sul potenziale adesso non ho tempo però era la cosa più carina secondo me il potenziale è che la gente dice io ma io lo faccio da vent'anni questo lavoro benissimo le tue prestazioni sono perfette cioè nessuno ti sta discutendo le prestazioni di oggi noi però andiamo a misurare il potenziale cioè tu quello che potresti fare in più acquisendo delle altre competenze perché in un'evoluzione in un'organizzazione che avanza c'è bisogno che le competenze come abbiamo visto siano sempre in evoluzione questa è la matrice che usiamo quando facciamo le nostre interviste volevo farvi vedere velocemente la differenza tra ecco queste sono la matrice prestazione potenziale che è un pochino complicata ma non ho il tempo di spiegarvi delle posizioni organizzative del dipartimento ABS è una matrice che ci dimostra come questo è quello di tutta l'azienda come le prestazioni le prestazioni che adesso qui non so se non si può vedere le prestazioni sono quelle centrali vanno molto bene bisogna lavorare sulle competenze perché come vedete lassù sono le nuove posizioni organizzative ci sono l'affronto non si vedono i colori tra le vecchie e le nuove il potenziale e lo sfruttamento del potenziale c'è stato ma non abbiamo le risorse per coprire tutto quello di cui ci sarebbe bisogno quindi bisogna lavorare su questo su questo aspetto questo è la prestazione la matrice con l'età media delle persone è un lavoro di fino fatto in maniera strutturata che un giorno potremo anche spiegare volevo finire dicendo che molte volte quando assumiamo la gente per esempio si può pensare di fare un turnover adesso hanno sbloccato il turnover il turnover mancano cinque medici assumo cinque cinque ginecologi ne assumo cinque questo è una cosa secondo me di vent'anni fa nel mio processo di lavoro vanno in pensione cinque ginecologi di cosa ho bisogno di quale competenze ho bisogno nei prossimi tre anni questo è un turnover programmato di un ginecologo di un chirurgo di un coordinatore infermerito cinque su cinque non ce li assumerà più nessuno se prima lavoravo con cinque ginecologi questo è un esempio che ho fatto sulla ginecologi ma vale per tutti gli uffici devo riorganizzarmi e capire di cosa ho bisogno e chiedere nel turnover programmato quello di cui ho bisogno e mi deve essere assunto quella competenza questi sono due decreti legislativi che noi non usiamo mai nelle nostre selezioni noi dobbiamo andare a prendere quello di cui abbiamo bisogno ci sono tutte le leggi per farlo alcune volte forse c'è più comodo prendere e non usare quello c'è gente che ride e non usare quello di cui abbiamo bisogno forse è un po' più semplice però una volta Mentana diceva alla RAI si assumono tre giornalisti uno bravo uno insomma e uno adesso non si assume nemmeno uno e quando se ne assume uno e faccio l'esempio non dei giornalisti ma dei medici e ho bisogno di quello bravo perché se no la performance non la raggiungo allora usiamo tutti gli strumenti per riuscire ad ottenerlo questo è quello che ho detto ultima cosa la misurazione della performance il direttore di dipartimento nel pomeriggio presenterà questo nuovo software che insieme a un ingegnere gestionale che lavora da me Francesco serve per capire dove vogliamo andare e misurare quello che facciamo ma non è la misurazione finisco Marcello non è un controllo su quello che facciamo ma è soltanto un meccanismo gestionale che mi serve per capire come fare a migliorare dove mettere le mani mi dispiace che gli argomenti come vedete l'aria è enorme gli argomenti sono tanti e spero di essere stato veloce grazie grazie mille chiedo scusa a chi viene dopo per lo sforamento che abbiamo generato e buon caffè grazie mille grazie mille Grazie a tutti